Assessore Abba, finalmente bilancio di previsione approvato ieri sera, quali sono gli elementi salienti, che cosa si sente di dire ai nostri concittadini riguardo a questo documento economico? Dunque, bilancio molto difficile, non ci nascondiamo dietro un dito, situazione molto difficile, pochi soldi, tanti, tanti problemi. Le buone notizie sono che siamo riusciti a non aumentare la Tari grazie alla risoluzione del contratto con Tradeco, ci siamo messi in tasca un milione e mezzo di penali che abbiamo applicato negli anni alla società, che a questo punto sono incontestate e possiamo utilizzare, abbiamo già utilizzato, abbiamo anche un tesoretto per l'anno prossimo. Quindi non aumenta la Tari, anche se abbiamo aumentato il costo del conferimento in discarica, non avendo l'8,6 dobbiamo portare i rifiuti fuori provincia, costa tanto, ma non va a cadere sulle spalle agli cittadini. Quanto meno questa è la migliore notizia. Altrimenti avremmo dovuto pagare anche quello. Altrimenti avremmo dovuto aumentare la Tari, come hanno aumentato quasi tutti. Perché conferire fuori regione vuol dire pagare di più. Vuol dire pagare di più. Quasi tutti i comuni dei dintorni hanno aumentato la Tari. Ci ha salvato la penale. Ci ha salvato la penale. Quindi questa è una buona notizia. Abbiamo qualche quattrino da mettere sulle manutenzioni, pochi, perché abbiamo pochi soldi e tante spese. Abbiamo un depuratore sulle spalle che una volta non c'era. E quindi tutta una serie di costi aggiuntivi. Però qualche soldino sulle manutenzioni lo troviamo. C'è qualche, per fortuna, stiamo incassando un po' meglio del previsto sugli ordini di urbanizzazione. Quindi c'è un po' di risveglia. Questa è una doppia buona notizia. Una buona notizia per il comune che incassa. Una buona notizia perché evidentemente vuol dire che le imprese un pochino lavorano. Di edilizia un pochino si muove. E tutti quei soldi lì sono soldi che verranno spesi sul territorio. Già oggi abbiamo 170 mila euro in più rispetto a quelle che erano le previsioni per tutto l'anno. Quindi direi che di qui a fine anno altri quattro mesi qualche altro centinaia di miliardi di euro entrerà. Per cui qualche manutenzione, qualche asfalto, qualcosina riusciamo a fare. Allora, i problemi, se aumentano queste entrate, anche un po' di entrata corrente, cresce. Come mai non ci sono mai i soldi? Che succede? Il governo si prende più soldi? L'entrata corrente non cresce più, nel senso che l'anno scorso abbiamo aumentato l'Imu per compensare il taglio. Abbiamo aumentato l'Imu e inserito la Tasi per compensare parzialmente i tagli che ci hanno stati fatti sui trasferimenti erariali. Quest'anno ci hanno tagliato un altro milione e cento. In più rispetto all'anno scorso. In totale, alla fine abbiamo perso quasi due milioni. Quindi abbiamo raschiato il fondo del barile e siamo lì con le unghie a cercare quattrine negli angoli. Quindi l'unico versante oggi è la spesa, non l'entrata. Sulle entrate non abbiamo margini. Sulla spesa cerchiamo di spendere meno, di spendere meglio, di usare le risorse umane interne al comune. Le cattive notizie sono allora che possiamo scordarci megaconcerti, iniziative, manifestazioni, spettacoli. Su tutto il turismo ricordo, discorsi che ho già fatto, un po' di anni fa sulla cultura, solo dal Casino di Sanremo arrivavano 400 mila euro all'anno di fondi turistici che venivano impiegati sulla cultura. Oggi, Casino zero, altre risorse, anche tutte le regioni, contributi di vario genere, le fondazioni bancarie, tutti i contributi che arrivavano sono sempre più scarsi. E il comune ha poche risorse. Se qui andiamo a mettere qualche soldo, quando li troviamo proprio, ripeto, andando a cercare con il lanternino, è molto difficile. Diciamo che un po' di cultura, un po' di manifestazioni si fanno un po' con la fantasia e si fanno, grazie, viva Dio, al contributo di tutte le associazioni, perché c'è molta gente che si dà da fare, quindi non tanto per merito del comune, ma per merito della comunità. Ecco, vorrei forse... il comune siamo noi, quindi la comunità siamo noi allo stesso modo. Per cui tutti coloro che hanno passione nella musica possono farlo, anche senza i nostri soldi. Grazie Assessore Abbo e torniamo a parlare con l'Assessore Abbo, ma anche con il consigliere d'opposizione Alessandro Casano. Domani sera alle 21, a microfono aperto, di bilancio, di società, di problemi, di Imperia, insomma di argomenti che interessano la città a capoluogo. Domani alle 21, Imperia TV, microfono aperto.